Quindi io mi vado a prendere questa po' giù così evito che me la rubi e non ho trovato sto granchè devo dire la verità Però in normal io ho il vantaggio in normal team ho il vantaggio di iniziare con questa bella armatura d'oro Quindi l'armatura d'oro mi potrà servire lui ha fatto il po' e vabbè ma che sfiga e ma che sfiga allora Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video degli Skywars Oggi andrò a fare una challenge che non avete mai visto nel mio canale Dove potrò aprire una sola ceste ogni volta che farò una kill quindi una ceste una kill una ceste una kill e così via Non posso assolutamente aprire le ceste a meno che ho ucciso una persona Lasciate un bel mi piace condividete questo video con i vostri amici e andate a provare anche voi a fare questa challenge dopo aver visto il video E fatemi sapere qua sotto nei commenti se siete riusciti a vincere almeno una partita Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video delle challenge epiche delle sfide epiche negli Skywars Come avete letto nel titolo di questo video non posso assolutamente aprire alcuna ceste tranne la prima iniziale E poi posso continuare ad aprire delle ceste soltanto dopo aver fatto una kill Quindi devo uccidere per esempio lui che è tutto in leather tutto in cacca con la spada schifosa Dopo averlo ucciso potrò aprire un'altra ceste ragazzi quindi questa è la sfida di questa partita E molto probabilmente ma che cacchio fa ma quanto lagga oh mio dio Molto probabilmente dicevo ragazzi non riuscirò a aprire tantissime ceste perché pensateci quante kills posso fare in una partita Ne posso fare non lo so un 4 5 sono proprio fortunato e straforte ne faccio 6 ma più di quelle è difficile Oh che bello ragazzi siamo riusciti a prendere una ceste formidabile ci prendiamo tutto quanto togliamo questo 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 Perfetto ragazzi quella kill ragazzi valeva tantissimo perché come verrete sono riuscito ad aprire una ceste piena di roba interessante Sono messo veramente molto molto bene e tu jitter wallpaper che cosa vuoi fare che mi shift in questo modo Allora ci abbiamo una gapple come arma purtroppo abbiamo soltanto un iron axe quindi abbiamo soltanto una una scetta una scetta in ferro E questo vuole venirci conto perfetto perché se riesco a ucciderlo ragazzi Ma cosa vuoi fare un fan per caso non credo sia un fan comunque se riesco a ucciderlo ragazzi Oltre a prendermi la sua roba posso anche prendermi un altro ceste che poliamo visto che questo mi voleva venire a cleanappare No 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 cara ranetta tu hai capito male e adesso abbiamo la bellezza di due ceste da poter aprire Quindi questa era abbastanza inutile però l'abbiamo aperta quindi ragazzi conta come ceste questo qua togliamolo ci mettiamo questo E poi direi di aprire questa qua vediamo un ender pearl e delle frecce Beh ok non abbiamo trovato niente di stra buono se non altro però sempre meglio di niente le ender pearl le mettiamo sicuramente qua E adesso visto che siamo messi discretamente bene andiamo a guardare dove sono gli ultimi anzi dov'è l'ultimo rimasto perché è rimasto una sola persona in vita Ah eccolo guardatelo no che fai hai paura hai paura ma chi è è un Alex no è uno Steve non è nemmeno uno Steve che cacchio di skinner c'ha questo Va bene ragazzi bando le jange adesso guardate come lo trollo guardate guardate lui vuole venire qua però in realtà adesso si confonderà Perché sto continuando a tirargli colpi di candela pesca e poi utilizzo l'ender pearl dietro di lui così si spaventa guardate guardate Devo soltanto aspettare che si avvicini qua dai avvicinati non avere paura non ti faccio male no non ti faccio male ma dove ce l'ha gli occhi non riesco a vedere i suoi occhi ragazzi E adesso tiriamo no oh mio dio ho sbagliato oh mio dio ragazzi avevo quasi sbagliato per un secondo lui era convinto che io fossi caduto giù No amico amico ma chi credi con chi credi di avere a che fare io sono Kendall il potente Kendall il supremo c'ha un cuore rimasto ed è morto Oh mio dio avevo fatto un mezzo fail perché avevo tirato l'ender pearl nel muro e stavo praticamente cadendo Per fortuna ho avuto i riflessi pronti e un'altra ender pearl da poter utilizzare per salvarmi le chiappe Oh mio dio ragazzi vediamo se riesco a farla anche nell'insane perché prima mi trovavo nella modalità normal se non sbaglio E oh mio dio abbiamo trovato tanta bella roba nella nostra prima chest ricordatevi le regole sono molto semplici non posso aprire alcuna chest Tranne quella iniziale e poi posso prendere un'altra subito dopo aver fatto una kill probabilmente questo lo uccidiamo con un altro shot Lo pre... oh mio dio ragazzi Intanto credo che lui abbia aperto la chest al posto mio quindi forse trovo già della bella roba da poter prendere Uh l'aveva rotta lui la chest molto intelligente E aveva... Ah no 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 tu lasciami stare Oh mio dio questo è messo benissimo Ok ragazzi allora 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 Ho fatto una kill quindi posso prendere Porca la miseria quella chest non aveva niente No 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 quello mi ucciderà Devo fare un'altra kill per poter aprire un'altra chest e equipaggiarmi Attualmente sono completamente nudo ragazzi Allora vediamo se riesco a uccidere questo magari No sta scappando Porca miseria Oh mio dio c'ho quello dietro C'ho questo dietro questo è messo benissimo Vuole fare team E tu invece vuoi fare team Ma quanto cavolo va veloce questo Oh mio dio uccidetevi tra di voi Io vi clean up poi Quello andava velocissimo avete visto raga Una scheggia Tecnicamente No non stiamo facendo team ragazzi Perché io sto cercando di ucciderli entrambi E lui quanta vita ci avrà Tra l'altro quello l'ho lasciato a zero raga Io l'ho lasciato a zero A colpi di frecce E vediamo se riesco a uccidere pure lui L'ho lasciato a tre cuori No 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 Tu lasciami stare full diamond per favore Devo uccidere lui Devo ucciderlo Vieni qua Mi serve la tua armatura E mi serve soprattutto una chest per favore Vediamo se lo prendo il resto ragazzi lo uccido Se lo prendo un'altra volta lo uccido No porca la miseria Anche lui c'ha l'arco Ahia il suo arco fa benissimo Ora sicuramente Tutti quanti starete pensando Ma che ti vuole fare questo talent Basta trovare Oh mio dio Stavo per dire Basta trovare una chest sfortunata E vinci la partita Easy Eh E stavo per dire Ma io fino ad ora non l'ho mai trovata Questa chest sfortunata Ho sempre avuto sfortuna E ragazzi Come vedete invece questa volta L'abbiamo trovata Oh mio dio Sono quasi full diamond Senza aver fatto ancora niente Ancora devo fare la mia prima kill E quindi devo aprire Le mie prime chest E tra l'altro Grazie mille per il ponte Perché me l'ha fatto trovare Già bello pronto Ora vengo a clean uparti Io Sì 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 Hai capito benissimo Hai capito proprio bene Io ti clean up Mi prendo la tua roba E apro un'altra bellissima chest Oh mio dio Ottimo inizio ragazzi Ho un power 5 Ho un power 5 Ho un power 5 Ho un power 5 ragazzi Ho un power 5 Però non so se ho delle frecce Devo controllare Allora ce l'abbiamo delle frecce 64 Ho un power 5 con 64 frecce Posso aprire una chest Perché ho ucciso una persona L'avete visto tutti quanti E ovviamente che ci vado a trovare Un elmetto in diamante Protection 4 Ragazzi questa partita Non la posso assolutamente Se la perdo Io mi arrabbio Tanto 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 Allora questo qua per esempio Sì amichetto mio Io ti devo uccidere Perché ho bisogno Della tua roba Ho bisogno di questa kill Per aprire un'altra chest E sei morto Perfetto Ci aveva anche delle pozioni Quindi tiriamone una al volo In questo modo Così ci Rigeneriamo la vita E cos'altro Aveva una bella sharp Nessuno Allora questa io direi Di non aprirla Perché l'ha aperto a lui Vediamo qua Ecco ragazzi 5 Gepple Oh mio dio 5 Gepple Etericamente non mi serve più Aprire le chest Perché posso vincere la partita Anche così Sono già equipaggiato Abbastanza bene C'ho un power 5 5 Gepple Una spara sharp press 1 Sono full diamante E guardate quello Come lo buttiamo giù adesso Ciao ciao Quell'altro invece è andato lì Nell'isola Convinto di poterlo uccidere E invece si è trovato Una sorpresa Ovvero Kendal Che l'ha ucciso con l'arco Ora ho bisogno soltanto Ah ho fatto una kill Quindi posso aprire una chest Era vuota Peccato ragazzi Siamo stati sfortunati Ho bisogno soltanto Come stavo per dire appunto Di enderpearl Con le enderpearl Posso vincere questa partita In pochissimi secondi E sono rimasti Siamo rimasti In veramente pochi 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 E il mio power 5 ragazzi Fa un male Della madonna Quello l'ho ucciso Con tre frecciate Proprio una Due e tre Ed era morto Vi rendete conto Di quanto male Fa un power 5 Aia 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 Questo è messo molto bene ragazzi Questo è messo molto bene C'è una pozione di regeneration addosso E fu il diamante Enchantato E questo secondo me Mi fa la bua Questo può essere l'unico A farmi veramente Molto molto male E questo poi lo dobbiamo uccidere In qualche modo Tu ci devi morire adesso E guardate come cercano Di cleanapparmi Tutte e due Oh mio dio Questa partita ragazzi Sarà difficilissima da vincere Secondo me Secondo me questa sarà Difficile da vincere Allora il suorco Mi toglie un cuore Quanto gliene tolgo io invece Se riuscissi a prenderlo Anche solo una volta Io gliene tolgo tre Io gliene tolgo tre cuori Ragazzi con il mio power 5 Ricordate che io C'ho le gapple Quindi le posso mangiare Quando voglio E devo continuare A bosspammarlo in questo modo Così gli do fastidio Con il power 5 soprattutto Cioè l'ho già portato A dieci cuori Raga Tre frecciate L'ho portato a dieci cuori Guardate quest'altro L'hai capito Che te ne devi andare Ti devo uccidere In qualche modo Vediamo se lo prendo Attraverso i blocchi No non lo prendo Allora Io a te non ti lascio passare qua E se vuoi provare a passare Ti uccido Ma sicuramente Io non sono stupido Non vado io Non lo vado io Non ci vado io In mezzo a quel ponte Mi faccio uccidere Mi faccio buttare giù da lui Quindi devo soltanto aspettare È un gioco di pazienza ragazzi Questo E a lui l'ho ucciso Ciao Ok siamo rimasti in due Grazie per aver giocato Comunque molto Molto divertente giocare con te Posso aprire un'altra chest Il fatto è che Ragazzi Tra non molto Ci sarà il refill Quindi O la apro per il refill La chest E mi prendo una bella ender pearl Oppure non ha senso Oppure non ha proprio senso Ecco lui per esempio Ragazzi ora Vuole aprire le chest Ma io non gliele lascio aprire Perché io adesso Gli vado contro In questo modo Mi tiro la pozione E ora ti ammazzo male E ora ti ammazzo male Volevi aprirti la chest Hai capito proprio male Amico mio E sei caduto Ciao ciao Ragazzi Sono riuscito a vincere Non ci voglio credere Grazie Mi ha scritto pure WTFGG Con 6 kills Grazie ragazzi A quella chest Strafortunata Piena Di roba indiamante Ragazzi Spero vi sia piaciuto Questo video Ovviamente Lasciate un bel mi piace E condividetelo Con tutti i vostri amici Cercate anche voi Di fare questa challenge E fatemi sapere qua sotto Nei commenti Come vi è andata Io penso di essere stato Abbastanza fortunato A vincerne ben due Da Kendal E Porseo E tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao